Ciao a tutti, sono Fabrizio Moro, regista e sceneggiatore di Ghiaccio, insieme ad Alessio De Leonardis. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori dell'Est di Palma di Mallorca per aver scelto il nostro firma, per averci dato questa bellissima opportunità. Mando un bacio, due, tre, a Gabriella Carducci e vi ringrazio ancora una volta. Sarebbe stata una bellissima esperienza e spero che con il secondo film avremo la possibilità di venervi a trovare. In bocca al lupo per tutto il vostro lavoro, per questo festival e vi abbraccio da qui, sperando di poterlo fare presto di persona. Grazie. Ciao.